gentili telespettatori buona giornata il leader della lega matteo salvini alla sua ricetta la sua proposta per per il turismo dice ma ma più di 20 stati europei non vogliono turisti italiani mentre alcuni giornali del nord europa addirittura ci insultano facciamo le vacanze in italia che promuoviamo il nostro paese e così di quali giornali parla di quei giornali del nord europa soprattutto di uno che aveva raffigurato nella prima pagina in alto c'erano loro che lavoravano duramente per mantenere quelli del sud europa italia spagna e altri che invece fanno le vacanze sulle loro spalle questo voleva intendere che con i prestiti e i regali che arriveranno dall'europa con quelle recovery found loro stanno lavorando per mantenere noi cioè loro dovranno fare dei debiti assieme all'europa per regalare i soldi a noi per permetterci di andare in vacanza ma noi abbiamo sempre assistito a questa europa invidiosa e un gruppo di stati con l'invidia e la bava alla bocca perché un paese come l'italia non esiste al mondo ma non lo dico perché sono italiano un paese bello come l'italia non esiste con la storia e la cultura che abbiamo noi non ce n'è non c'è paragone in tutto il mondo l'italia racchiude oltre il 70 per cento di tutto il patrimonio culturale mondiale che c'è nel pianeta è tutto in italia e la gran parte di questo è anche nella città di roma quindi si capisce anche l'invidia di questi e di questi paesi ma noi questa invidia dovremmo fargliela passare dovremmo rispondere colpo su colpo a tutte le sciocchezze che arrivano e contro di noi chiudono i confini chiudiamoli anche noi ci insultano insultiamoli anche noi no quei paesi bisogna definirli dei paesuccoli che non hanno nulla bisogna dirle le cose sono paeselli invidiosi che non hanno neanche la nostra economia per quanto può essere la nostra economia in difficoltà la nostra economia è 10 20 volte superiore a quei paeselli del nord europa quindi dovrebbero stare zitti e muti ecco e con l'arrivo del 3 giugno intanto si sancisse finalmente la riapertura dell'italia quindi siamo al primo di giugno adesso si ripartirà nel pieno delle funzioni italiane quindi ci saranno saremmo nuovamente liberi di spostarci tra una regione all'altra ma anche per i turisti stranieri i quali potranno raggiungere il bel paese per trascorrere le vacanze quindi il governo apre le porte ai turisti di tutto il mondo senza limitazione l'italia è uno dei paesi che vive sul turismo le nostre città senza turisti corrono un rischio di default commerciale economico pazzesco quindi va bene da una parte aprire però il pensiero viene al contagio perché quando voi aprite a tutto il mondo inevitabilmente inevitabilmente si va incontro a un a una nuova fase acuta dei contagi dei decessi questo bisogna metterlo in conto e dobbiamo riaprire perché l'economia ci vuole senza l'economia si chiude chiude il paese chiudono gli ospedali tutto quanto quindi l'economia deve ripartire o perlomeno cercare di ripartire ma dobbiamo mettere in conto che potrebbe comunque quello che potrebbe comunque aspettarci o quello che potrebbe succedere quindi sul caso della grecia che prima no ai turisti italiani assieme ad altri paesi poi sì ma se vengono da lombardia emilia romagna veneto e piemonte e liguria saranno richiesti test specifici ed è un periodo di quarantena immaginatevi uno che va come turista in grecia sta 14 giorni chiuso in quarantena e come dire voi da queste regioni non venite quindi poi c'è la situazione con la svizzera l'austria la germania il lickenstein ma non ancora è preso una decisione definitiva nei confronti dell'italia alcuni paesi però che facciano quello che hanno voglia matteo salvini dice più di 20 stati europei non vogliono turisti italiani o impongono controlli e paletti mentre alcuni giornali del nord europa addirittura ci insultano dice matteo salvini in un post su facebook dice nessun problema abbiamo la fortuna e l'orgoglio di vivere nel paese più bello del mondo cultura ambiente monumenti enogastronomia montagne e spiagge mari e laghi ai turisti di tutto il mondo dico che sono i benvenuti mentre gli italiani che potranno riposarsi per qualche giorno chiedo di stare in italia quest'anno più che mai quindi assolutamente concordo con matteo con matteo salvini per un'estate state in italia chi può andare in vacanza ci sono chi vuole spendere tanto ci sono anche dei resort di super lusso in italia ce n'è per tutte le tasche quindi rimaniamo in italia è la è la frase principale quindi un invito a trascorrere le vacanze almeno in italia quest'anno almeno per un anno per magari qualche stagione così che potete anche aiutare le le imprese del settore turistico in italia che sono in gravissima gravissima difficoltà e così la lega mette a punto un piano redatto da un gruppo di lavoro guidato da gianmarco centinaio responsabile del dipartimento turismo della lega nella prima cosa il primo punto un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese che operano il comparto turistico per aiutare ovviamente la ripresa si parla di un miliardo da stanziare risorse concesse con garanzia dello stato a titolo di prestiti a fondo perduto in un arco di tempo quinquennale in misura pari alla perdita di fatturato subita nell'anno 2020 rispetto al fatturato registrato nel 2019 un miliardo in cinque anni per lo stato sono 200 milioni all'anno che non è nulla nella contabilità dello stato attenzione solo il reddito di cittadinanza costa 7 miliardi all'anno qui si parla di 200 milioni all'anno per cinque anni per fare un miliardo poi dice misure fiscali quali credito di imposta del 60 per cento sul canone di allocazione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività e del 60 per cento dell'importo pagato dal gestore a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda l'abolizione del versamento imu per l'anno 2020 nelle due componenti estensione della moratoria sui pagamenti di tutti i tributi dovuti e possibilità di rateaizzazione su un arco di tempo biennale e sospensione delle utenze detrazione in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche delle spese per servizio pubblico non in linea estensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni riguardanti la sospensione delle rate dei mutui e dei canoni di leasing assunti per l'acquisto di beni materiali e di infrastrutture per il comparto autotrasporto viaggiatori poi bisogna aggiungere a queste misure la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza attraverso i previsti accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali per le finalità di contenimento delle spese sanitarie consentendo di erogare da subito a tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati dell'ineil quindi poi c'è la proposta di prorogare tutti gli ammortizzatori sociali per l'emergenza sanitaria attualmente per nove settimane fino alla fine del 2020 cioè portarle fino al 31 dicembre così come l'accesso alle misure di cassa integrazione per il personale del comparto turistico assunto dopo il 23 febbraio del 2020 e per la maggior parte assunti con contratti stagionali c'è anche si chiede anche il prolungamento del trattamento naspi per tutelare il reddito dei lavoratori stagionali la rimozione dei limiti che impediscono il ricorso al contratto occasionale da parte degli operatori del settore turistico e pubblici esercizi poi c'è anche l'approvazione del decreto legge per definire la realizzazione del codice identificativo per le strutture ricettive al fine di porre ai fenomeni dell'abusivismo del settore dell'accoglienza extra alberghiera e poi c'è la proposta di un bono vacanze i parchi divertimento riconosciuti come parte integrante del sistema turistico italiano e questo mi sembra assolutamente corretto e giusto dal momento che garantiscono l'occupazione a più di 3000 cittadini i parti di divertimento come gardaland l'acqua fan mirabilandia quelli che mi vengono in mente da qui la proposta di includerli per far tra le imprese turistiche e sarebbe anche sarebbe anche giusto e poi viene proposta la fissazione di un termine perentorio per l'adozione del decreto del dpcm di attuazione della disciplina di revisione delle concessioni demaniali marittime confermando così l'astenzione delle concessioni di 15 anni e poi la sospensione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per 24 mesi la sospensione per un periodo di 24 mesi dell'applicazione su tutto il territorio nazionale dell'applicazione della disciplina relativa allo svolgimento della professione di guida turistica e poi viene proposto anche versamenti previsti nel cura italia oltre alla riduzione a 70 euro con decorrenza primo gennaio 2020 dalla soglia di spesa minima per il rimborso dell'iva e sugli acquisti effettuati in italia soggetti non residenti e non domiciliati nell'unione europea quindi la lega chiede la promozione anche tramite l'agenzia nazionale italiana del turismo l'enit ma conte ascolterà le proposte della lega quando fino adesso non ascoltato ascoltato assolutamente nulla io credo di no io credo di no io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie e buona giornata arrivederci